Italia 5 Stelle Parleremo di sport Cultura Lavoro e sviluppo nella nostra città Polizia sociale Parleremo di come il Movimento 5 Stelle sistema i bilanci delle città in cui governa Parleremo del futuro di Roma Parleremo di pari opportunità, di lotta alla violenza e di lotta alla discriminazione Parleremo di ambiente e della tutela del verde Parleremo di turismo e della sua sostenibilità Ci confronteremo e condivideremo le nostre esperienze con gli altri comuni Ci vediamo il 22, il 23, il 24 sotto al gazebo del Movimento 5 Stelle a Rimini Non mancate Italia 5 Stelle